Berge la Foscalina e Fosse del Frigido, due pagine della storia degli eccidi nazisti nel territorio puano, unite da una data, 16 settembre 1944. Oggi a distanza di 76 anni, la Toscana ha ricordato con due commemorazioni tutte le vittime innocenti di queste stragi. A Berge la Foscalina, paesino sotto le Alpi Puane nel comune di Carrara, furono uccise 72 persone tra donne e bambini, poi bruciate nella scuola del paese. Durante la commemorazione alla presenza delle autorità civili e militari è stato firmato un protocollo tra regioni toscana e comune di Carrara, grazie al quale la scuola teatro dell'Efferato e Cidio diventerà un museo, un modo per tenere alta la memoria di questi luoghi e passare il testimone alle future generazioni. Seconda tappa nel ricordo delle due stragi, a massa la deposizione di una seconda corona, in ricordo dei 159 prigionieri detenuti nel castello Malaspina, fucilati dalle SS in ritirata sulle sponde del fiume Frigido.